Far ripartire l'economia dell'Italia dall'impresa cercando di dare centralità al turismo e alla ricchezza culturale presente nell'Italia, ma anche dare maggiore supporto infrastrutturale al mezzogiorno. Sono queste alcune delle principali ricette che il presidente di Confindustria Nazionale Vincenzo Boccia propone per dare slancio e crescita ad un paese da troppo tempo fermo nella morsa della crisi economica. Il Sud può e deve avere un ruolo centrale in un progetto di rinascita dell'economia italiana. Per Boccia è necessario iniziare a parlare di questione nazionale e di fare in modo che l'Italia possa prendere il ruolo centrale che riveste nel Mediterraneo. La politica deve ritornare a riparlare di questione nazionale attraverso la questione industriale, avere una visione dell'Italia che non sia periferia d'Europa ma centrale tra Europa e Mediterraneo e in questo mezzogiorno assumerebbe un ruolo di centralità totale, una visione molto più larga del mondo. Per ripartire Boccia riprende quella che è anche l'idea della strategia delle aree interne che è stata anche oggetto di valutazione in altre occasioni, il potenziamento del settore turistico e la valorizzazione dei beni culturali presenti. Per far ciò è anche però necessario potenziare le infrastrutture e i collegamenti. Uno dei principali elementi che l'industria e le imprese devono sfruttare per poter anche dare un nuovo slancio all'economia è sicuramente la riccofferta turistica del Sud Italia, valorizzare grandi attrattori come la Certosa di San Lorenzo ed intorno ad essi costruire e potenziare il settore imprenditoriale. Noi come Confindustria abbiamo un'idea larga di industria, industria del turismo, della manifattura, delle costruzioni, della cultura e dei servizi. Tra l'altro il turismo è un'asse fondamentale del Paese perché significa attrarre turisti e quindi attrarre ricchezza. Occorre una dotazione infrastrutturale per collegare territori al centro, attrarre turisti, in questo l'aeroporto di Salerno può giocare un grande ruolo come tanti aeroporti nel Paese hanno giocato un ruolo nell'attrarre turisti nei territori ed è una sfida di comunità, di Paese e di idea di Paese. Ripeto, quando entra in gioco bellezza, equilibra anche delle posizioni naturali che sono un dono che abbiamo come italiani, entra in gioco l'Italia, entra in gioco territori molto belli come il Vallo di Diana, la Certosa di Padula che sono dei capolavori che dobbiamo far scoprire al mondo.